Buona giornata a tutti e a tutti, mi presento, mi chiamo Elena Gentile, sono europarlamentare uscente e ancora prima impegnata in una importante esperienza di governo nella mia regione. Voglio raccontarvi come l'Europa in questi ultimi cinque anni si è già cambiata, perché è diventata più giusta con il pilastro sociale, più attenta alle donne con la direttiva di conciliazione vita lavoro, ai bambini con garanzia bambini, all'ambiente con le misure previste dentro l'economia circolare e noi vogliamo riconnetterla ancora di più con la domanda di cura e di attenzione che ci riviene dai territori e dalle persone. L'Europa costruirà scuole, costruirà ospedali, costruirà case popolari per chi ha bisogno per contrastare la povertà. Insomma, aiutateci a lavorare per un'Europa migliore.